Eccoci a vedere lo shop di oggi 18 giugno. Iniziamo con Svegliati, Il Mio Mondo, Purtroppo non sentiamo le musichette, Rolli, Last Forever, Skin Bombardiero Scuro, Skin di Vix, Skin pacchetto, Infinito, che sembra un po' il tizio che c'è in Spider-Man Far From Home, Sanctum, Istinto, questa copertura, oh il passo doppio c'è, l'alletto elettrico e questo. Mentre abbiamo ancora Harry Kane e Marco Reus, le varie skin di Harley, Dead, Stroke, Flash e tutto il resto che abbiamo già visto, anzi no, forse adesso abbiamo in più il Batman, quello del fumetto, oltre alla Catwoman del fumetto. Abbiamo questi, eh già. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo shop, mi raccomando, usate il codice Pixel Squad e venite a fare server privati, gare di canto, eccetera, eccetera, sul mio canale, ciao ciao.